Ciao a tutti, io sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. Proprio parlando del mio canale mi sono accorto che la stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità, dei fiorellini che si trovano come protagonisti sul mio canale appunto sono di origine americana. Allora mi sono detto bah è impossibile che loro abbiano il monopolio su psicopatici, assassini e serial killer. Quindi ho voluto cercare e mi sono voluto guardare un pochino intorno e ho trovato una storia per voi di un tipetto veramente raccomandabile vissuto nell'Europa dell'Est, tale Hubert Pilchik. Oggi vi parlerò appunto di un serial killer che per la sua crudeltà e sadismo ma anche per essere uno dei rari casi di serial killer di origine dell'Est europeo, del periodo della Cortina di Ferro, è annoverato tra i serial killer più famosi della storia. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento e un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Hubert Emil Pilchik nacque il 14 ottobre del 1891 nel distretto di Byzantine in quella che oggi è la Repubblica Ceca. Era sposato con Antoni Antoni, una donna di 11 anni più giovane di lui e non avevano avuto figli. Nella sua vita fece numerosi lavori fino a quando non riuscì a trovarne uno di suo gradimento come operaio con la qualifica di fabbro presso la fabbrica della Skoda a Pilsen, dove rimase fino al suo pensionamento. Pilchik era conosciuto da tutti in città perché sosteneva di essere sopravvissuto all'affondamento del Titanic nel 1912. Come tutti sappiamo il Titanic è stato quel transatlantico britannico diventato tristemente famoso per la collisione con un iceberg e nella notte tra il 14 ed il 15 aprile del 1912 e il suo conseguente drammatico naufragio con affondamento. Pare che tra i marinai in servizio sul transatlantico ci fosse proprio il nostro Hubert Pilchik che durante la fuga generale era riuscito ad imbarcarsi su una scialuppa di salvataggio e mettersi in salvo. Recuperato dall'equipaggio del Carpazia, venne assistito, rifocillato e portato a New York per poi essere rispedito in Cicoslovacchia, sua madrepatria. In apparenza Pilchik era un pensionato dall'aria irreprensibile che conduceva una vita addirittura banale nella sua normalità. Amante della natura, appassionato di escursionismo, collezionava erbe medicinali e non ultimo era un amante sfegatato della cantieristica stradale. Secondo le testimonianze dei suoi vicini Pilchik, che veniva chiamato zio Hubert, era una persona molto simpatica, sempre disposta ad aiutare gli altri e inoltre salutava sempre. A nessuno sarebbe venuto in mente che potesse fare qualcosa di nefasto. In realtà il caro vecchietto conduceva una doppia ma una tripla vita, da cordiale vicino, da corriere di emigranti clandestini e infine da assassino a sangue freddo, violento e crudere. Per capire il contesto storico in cui avvennero i fatti imputati a Pilchik, bisogna ricordare che dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Cecoslovacchia, era caduta nella sfera d'influenza dell'Unione Sovietica. Quando il comunismo prese il potere e lo consolidò, in particolare dopo il febbraio del 1948, moltissimi cittadini insoddisfatti del nuovo sistema politico si ingegnarono per lasciare illegalmente il paese. Si stima che furono circa 250.000 le persone che vi riuscirono. A quel tempo, infatti, non era difficile attraversare il confine, perché non esisteva ancora la cortina di ferro, ovvero le famigerate tre recinzioni di filo spinato al confine con l'Austria e la Germania Ovest, e anche grazie alla connivenza di agenti di polizia che si piazzavano in falsi punti di frontiera per ingannare quella povera gente. Chi conosceva le strade meno battute e più sicure per raggiungere la frontiera senza essere fermato dalle forze dell'ordine, perciò si faceva pagare profumatamente per portare gli emigranti fuori dai confini. Il pacifico e insospettabile pensionato, amante della natura, Juber Pilchik, era uno di loro, anzi peggio, fingeva di esserlo. Si offriva di aiutare gli emigranti a lasciare il paese, ma poi invece li derubava di ogni loro avere e poi se ne sbarazzava. Un pochino come faceva la nostra cara Cianciulli. I suoi delitti erano quasi perfetti perché le persone che fuggivano attraverso il confine perdevano ogni contatto con i loro cari che, sicuri che avessero raggiunto un'altra nazione e avessero iniziato una nuova felice vita, non li cercavano più, perciò se sparivano nessuno se ne accorgeva. Fu con la promessa di aiutarli a passare la frontiera illegalmente che Pilchik attirò nella sua trappola Emanuel Balejovi, sua figlia Renata e la loro nipotina di 12 anni Dagmar. Emanuel e Renata avevano incontrato Pilchik nello studio fotografico della donna a Pilsen e lì si erano accordati per essere accompagnati da lui oltre confine una alla volta perché, se fossero andati tutti insieme, sarebbe stato troppo poco prudente e avrebbero potuto attirare troppo l'attenzione delle forze dell'ordine. Il primo ad incontrare Pilchik sarebbe stato Emanuel. Pilchik diere appuntamento a Emanuel presso un casolare abbandonato chiamato Lipovka, a 60 chilometri dal confine, in un bosco del piccolo villaggio di Nekmiv, come da suo modo superandi, dicendogli che, prima di affrontare il lungo viaggio che lo attendeva, avrebbero dovuto trascorrere la notte lì, nascosti. Successivamente sarebbero andati a prendere anche Renata e la bambina. Mentre Emanuel dormiva, però già stordito dall'alcol che aveva trangugiato la sera precedente, Pilchik lo colpì alla testa più volte con un manganello e una barra metallica. Ricoprì il suo corpo con della paglia e gli versò sopra del liquido infiammabile. Dopo essersi appropriato dei suoi oggetti, diede fuoco alla capanna e se ne andò. Solo undici giorni dopo, prese contatti con Renata, le disse che suo padre era arrivato sano e salvo in Germania e che era il suo turno per partire. La attirò quindi in una foresta vicino al villaggio di Senech, dove la stordì col suo manganello, e avvolse una corda intorno al collo, le infilò un bavaglio in bocca e la soccò. Per sbarazzarsi del suo corpo la seppellì in una fossa poco profonda, in una cava di sabbia poco lontano. Decise di risparmiare la vita alla ragazzina e la portò con sé a casa sua, dove la rinchiuse in un purcile. La sera del 6 marzo del 1951, l'incendio appiccato sul corpo di Emanuel divorò l'intero cottage, attirando l'attenzione degli abitanti dell'abitazione vicina, che chiamarono le forze dell'ordine. Da quel che rimaneva dell'edificio, emersero i resti carbonizzati di un corpo con accanto alcuni effetti personali, la fibbia di metallo di un paio di scarpe, un fermacravatte di metallo e un paio di occhiali, e al collo una catenella con degli anelli rettangolari. Quando venne effettuata l'autopsia si scoprì che i resti appartenevano a un uomo dall'apparente età di 50-60 anni, alto circa 175 centimetri, che era stato cosparso nel liquido infiammabile e dato alle fiamme. Probabilmente mentre era ancora vivo lo dimostrava il fatto che i medici illegali trovarono prove che il suo sangue fosse ribollito nelle vene. Nonostante le numerose indagini non si scoprì l'identità della vittima. Il 20 luglio dello stesso anno, a circa 10 chilometri dal luogo in cui era stato recuperato il cadere carbonizzato rimasto non identificato vicino alla città di Senec, alcuni bambini che stavano giocando nella cava di sabbia, trovarono un arto di una donna. Il ritrovamento portò la scoperta, poco distante dal luogo di ritrovamento dell'arto, di una tomba poco profonda contenente i resti in avanzato stato di decommissione di una donna di circa 30 anni, seminuda, che era stata imbavagliata e aveva una corda intorno al collo. Questa volta, attraverso l'esame dei due corone dentarie della vittima, la polizia riuscì a identificarla come Renata Ballejova, la fotografo di Pilsen. L'identificazione fu possibile perché i reperti ritrovati erano degli impianti dentali realizzati su ordinazione appositamente per lei. La polizia interrogò i parenti e i conoscenti della donna per cercare di scoprire quando l'avessero vista l'ultima volta, quali fossero le sue intenzioni, ma la maggior parte di loro era reticente ad ammettere che i loro parenti scomparsi fossero anticovernativi perché al tempo era molto comune che anche la famiglia dei fuggitivi fosse punita e perseguitata dal governo comunista. Alla fine la zia, che aveva identificato il corpo di Renata, confidò agli investigatori che la ragazza stava progettando di emigrare illegalmente dalla Cecoslovacchia, insieme alla nipote dodicenne e a suo padre Emanuel, verso la Germania. La donna fornì anche alle autorità le prove secondo le quali i tre erano riusciti a raggiungere la loro destinazione. Una lettera che aveva ricevuto dalla bambina, dalla Baviera, che però a guardarla bene non aveva né francobollo né timbro postale. Da questo particolare gli investigatori capirono che quella poteva essere una prova del fatto che nemmeno la bambina si trovasse effettivamente in Baviera. Quindi chiesero alla donna se fosse in grado di riconoscere la persona che le aveva consegnato la lettera. A quel punto la donna non solo disse di conoscerlo ma di sapere addirittura dove abitasse. Si trattava del suo stimato concittadino Hubert Pilchik. Gli investigatori sospettarono allora che Pilchik avesse qualcosa a che fare con la morte della giovane Renata e a settembre si recarono alla sua abitazione per investigare. Pensando che fosse pericoloso una squadra speciale e due membri della BNS, la polizia cieca, entrarono nella sua casa travestiti da elettricisti con il pretesto di sostituire un orologio elettrico. Quando scoprirono che era a casa da solo e non era armato lo bloccarono, gli misero le manette e lo arrestarono. In casa dell'uomo trovarono quattro armi da fuoco tra cui una mitragliatrice, dei proiettili e un coltellino. Numerose valigie appartenenti a presunte vittime, contenenti scarpe, vestiti, pellicce e gioielli che lui in principio sostenne essere solo dei regali delle persone che aveva aiutato a emigrare all'estero. Trovarono però anche alcune corone dentarie in oro molto più difficili da giustificare e in giardino, semi bruciati, dei documenti che permise di collegarlo ad altri tre omicidi. Quello di un ingegnere di nome Lubomir Krauss, il cui corpo fu trovato sepolto sotto i rami in mezzo foresta, anch'esso nella zona di confine, e a sua moglie Eva, il cui corpo fu trovato bruciato da un guardiacaccia vicino a Marianske e, infine, un uomo d'affari di Pilsen, Jan Urka, ma soprattutto durante la perquisizione i poliziotti in uno scompartimento nascosto di un porcile, trovarono la bambina di 12 anni ancora legata, ma fortunatamente viva. La bestia aveva costruito una struttura in legno composta da due lunghe tavole dotate di cinghie e di una piccola scatola sulla sommità. La bambina veniva immobilizzata lì, con la testa infilata in quella cassetta piena di stracci per attutire le sue urla e con un tubo in bocca per poter respirare. In quella posizione la povera bambina aveva trascorso 16 ore al giorno per due mesi, senza poterne anche andare in bagno o difendersi dagli insetti e dai topi che la tormentavano, e veniva regolarmente tormentata e tormentata dall'uomo, che la liberava dallo strumento di tortura solo quando aveva bisogno di lei. Sembra che neanche la moglie si fosse accorta della presenza della bambina, perché lui la liberava solo quando lei era fuori casa, o più probabilmente lo sapeva e non aveva il coraggio di opporsi per paura del marito. E quando la liberava, la bambina ormai ridotta ad uno scheletro, ovviamente, si metteva a correre per il giardino in cerca di una via di fuga. Sembra che alcuni dei vicini l'avessero vista correre per il giardino, ma nessuno aveva pensato di riferirlo alle autorità, sempre per omertà che contraddistingueva quel periodo storico. Pilcic aveva costretto la bambina a scrivere quella lettera dalla Baviera che poi aveva consegnato alla zia della bambina. Data la quantità di gioielli trovati nella sua casa, la polizia riterne che Hubert avesse ucciso più persone che cercavano di oltrepassare la cortina di ferro, probabilmente decine, ma il loro numero esatto non lo sapremo mai. I loro resti giacciono da qualche parte nei boschi, nella parte occidentale della Bohemia, e quelli che sono stati trovati furono molto difficili da identificare. Inizialmente Pilcic negò il suo coinvolgimento negli omicidi, ma poi incalzato dagli investigatori alla fine, il 6 settembre del 1951, confessò i suoi crimini e fu arrestato. Durante la sua confessione l'uomo ammise di aver pianificato di uccidere anche la bambina, oltre ad un altro appartenente alla famiglia Balejovi, probabilmente la donna a cui si deve la sua cattura, e anche la sua stessa moglie. Insomma, tutti coloro che pensa avrebbero potuto testimoniare contro di lui. Non riuscì a portare a compimento il suo piano perché lo stesso giorno in cui aveva pianificato gli omicidi fu arrestato. Sua moglie Anton Pilkova fu condannata a cinque anni di reclusione, ma nel 1955 fu rilasciata dalla prigione e fece perdere le sue tracce. Hubert Pilchik non visse per il vedere il processo. Solo tre giorni dopo il suo arresto verrà trovato morto nella sua cella, sdraiato con due fazzoletti legati attorno al collo, e, si dice, con un forte odore di alco, come se avesse bevuto pesantemente. Probabilmente Pilchik avrebbe ricevuto la pena di morte se non fosse morto misteriosamente. Secondo me, idea personalissima, è stato suicidato. La cosa non è che mi sconvolga più di tanto. Ovviamente le circostanze della sua morte suscitarono numerose teorie complottistiche, come al solito. La prima delle quali che avesse dei legami con la polizia che, in cambio di qualche realino, chiudeva un occhio sulla sua attività di contrabbandiere di persone e, perciò, doveva essere fatto tacere. I suoi parenti non manifestarono alcuni interessi per le sue spoglie e le donarono alla scienza. La sua testa è tuttora conservata in un barattolo di vetro presso l'Istituto di Medicina Legale di Pilsen, presumibilmente perché il suo cervello doveva essere analizzato e preservato per le generazioni future. Altra mia considerazione personale, la testa di un tipo così può stare esclusivamente in un sexy shop, comunque. Presso il Police Museum di Praga, invece, è esposto lo strumento che era servito a segregare la nipote di Ballejovi. La casa in cui Pilchik viveva, a Senec, cadde in rovina per un periodo piuttosto lungo, finché non fu messa in vendita ed infine acquistata dal detective Zanamec, colui che lo aveva catturato. I suoi discendenti vivono ancora lì. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che like, iscrizione e commenti sono gratuiti per voi, ma utilissimi al mio canale. E vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre. Ciao.